Parliamoci chiaro, tu hai avuto una grande fortuna trovare un direttore come me, se c'è qualcuno che può capire i problemi dell'entrep questo sono io, qui tuo figlio avrà tutta l'assistenza che merita l'insegnante giusta, la classe giusta e il pian terreno. Forse tu sai che mi diletto di poesia, niente grandi ambizioni, soprattutto alla mia età, ho portato un manoscritto da casa per gettargli un'occhiata, tuo suocero è in contatto con le case editrici più importanti, una sua parola per tutto. Grazie a tutti. Una volta, mentre lo guardavo come se lui fosse un altro, e io un altro, mi ha salutato, sorrideva e si è appoggiato contro il muro, è stato come se ci fossimo incontrati per sempre, per un attimo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.